Un attraversamento pedonale è più sicuro se illuminato e segnalato correttamente. La segnaletica, realizzata con lampeggianti e cartelli retroilluminati certificati, avvisa gli automobilisti da lontano della presenza dell'attraversamento. L'illuminazione sul piano orizzontale completa la segnaletica con una luce concentrata sulle strisce, che crea un altissimo contrasto con l'ambiente circostante ed è riconoscibile a distanza. Tuttavia, oltre a identificare l'attraversamento, i guidatori devono poter vedere i pedoni che lo stanno impegnando e questo è possibile solo illuminandone efficacemente il corpo, anche detto piano verticale. Rendendo visibili i pedoni a partire dalle aree d'attesa, la reazione degli automobilisti può attivarsi in sicurezza, prevenendo situazioni di pericolo e incidenti. Perché tutto questo sia possibile, i corpi illuminanti devono anticipare l'attraversamento in modo da illuminare il lato del pedone esposto al traffico in arrivo, per ogni senso di marcia.